Buongiorno a tutti, oggi è sabato 19 dicembre, ascoltiamo il Vangelo secondo Luca capitolo 1 versetti dal 5 al 25. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutte e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorti, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Parve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide Zaccaria si turbò e fu preso da timore, ma l'angelo gli disse non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà dinanzi a lui con lo Spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo come potrò mai conoscere questo, io sono vecchio, mia moglie avanti negli anni. L'angelo gli rispose io sono Gabriele e sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti, a portarti questo lieto annunzio. Ed ecco tu sarai muto, non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno perché non hai creduto alle mie parole che si compiranno al loro tempo. Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel Tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro capirono che nel Tempio aveva avuto una visione. Faceva loro cegni e restava muto, con più di giorni del suo servizio tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. In questi giorni il Vangelo ci racconta gli avvenimenti che precedono la nascita di Gesù e oggi ci soffermiamo sulla visita dell'angelo Gabriele a Zaccaria. Il primo messaggio dell'angelo di Dio a Zaccaria è non temere la tua preghiera è stata esaudita. Zaccaria, come ciascuno di noi in tutta la sua vita, che è stata sempre a servizio del Tempio del Signore, ha pregato, sperato, atteso e in particolare aveva desiderato tanto il dono di un figlio, però sapeva di non poterlo avere perché sua moglie era sterile. Ecco quante volte noi preghiamo, preghiamo, però poi sappiamo che in fondo quello che facciamo è solo una preghiera, perché non è possibile quello che possiamo noi desiderare. E invece il Vangelo oggi ci mostra che nella vita in fondo tutto è una questione di preghiera, tutto è frutto della preghiera, del desiderio profondo, della speranza, dell'apertura del cuore, del servizio gli uni per gli altri. In realtà, questo lo comprendiamo dal Vangelo, le promesse di Dio si compiono, però è necessario che il nostro cuore sia pronto a dare fiducia a Dio e questa fiducia, questa accoglienza di Dio non dipende dal ruolo o da un compito religioso, anche dalla nostra presenza religiosa, no, ma dalla disponibilità del cuore ad accogliere la benedizione di Dio su di noi, perfino sulle nostre incredulità. Zaccaria riceve totalmente la rivelazione del desiderio di Dio per il suo popolo e l'angelo gli rivela che sarà proprio questo figlio che lui ha sempre desiderato, no, che aprirà la nuova via della grazia, la venuta del Messia, ma Zaccaria resterà muto. Dio gli toglierà la parola finché non avrà altro da dire che la benedizione, perché Dio benedice i nostri limiti, quello che noi crediamo impossibile, Dio benedice e desidera che questi nostri limiti diventino benedizione. Davanti alla grazia di Dio impariamo ad accogliere, a invocare, a benedire. Allora oggi contempliamo attraverso lo stupore della Chiesa il mistero di Dio che viene a salvarci e con un solo cuore invochiamo il Signore. O germoglio di esse che ti innalzi come segno per i popoli, tacciono davanti a te i re della terra e le nazioni ti invocano, vieni a liberarci, non tardare. Buona giornata.